Salve a tutti, si torna a parlare di Senna e non perché oggi compie 40 anni il nipote Bruno Senna in Formula 1 tra il 2010 e il 2012, ma per le ultime dichiarazioni di Adrian Newey sull'incidente mortale di Imola. Vediamo cosa ha detto al podcast Beyond the Grid il progettista della Williams del dopo sospensioni attive che tanti grattacapi diede al pilota brasiliano. Nonostante l'inchiesta giudiziaria abbia individuato nella rottura del piantone dello sterzo l'innesco del crash fatale al tamburello, Newey ritiene invece che è più probabile la foratura lenta dello pneumatico posteriore destro e per avvalorare questa tesi dice Ayrton restò a tutto gas per mezzo secondo, poi ha ridotto al 50% e successivamente ha tolto il piede dal gas e ha frenato. Secondo logica, se si fosse rotto lo sterzo avrebbe frenato immediatamente. In passato Newey si era addossato già alla responsabilità ingegneristica e morale, riconoscendo di aver progettato testuale un'automobile aerodinamicamente instabile. Più l'asfalto era sconnesso, più la guidabilità peggiorava. Ma per ribadire il suo punto di vista si affida in particolare al camera car della Benetton di Schumacher che seguiva Senna, dal quale, sempre secondo lui, si evincerebbe che la Williams andò inizialmente in sovrasterzo, poi perse il posteriore e quindi vi fu una correzione del pilota che infine va a muro. Tutto questo, aggiunge, non sembra coerente con una rottura del piantone dello sterzo, che avrebbe dovuto avere ripercussioni sull'anteriore e non sul posteriore. Le perizie metalloscopiche condotte sul piantone dissero però altro. Furono accertati chiari segni di usura e affaticamento, oltre addirittura alla presenza di ruggine, e d'altronde parve strano o quantomeno inusuale vedere, come evidenziò bene il settimanale Autosprint, il piantone spezzato a terra accanto alla carcassa dell'auto. Esiste anche una telemetria, eccola, che testimone l'improvvisa mancanza di pressione proprio sullo sterzo. E' ben noto che il team venne incontro alle pressanti richieste di Senna che lamentava di sfregare le nocche delle mani contro la scocca che carenava molta parte dell'abitacolo. Per questo si decise di abbassare la colonna dello sterzo, ma lo si fece unendo due sezioni di diametro differente. Indipendentemente dal fatto che sia stato o non la causa dell'incidente, si trattò di una pessima modifica che non avrebbe mai dovuto essere montata, ammette Newy. La Williams 94 aveva dato filo da torcere fin dai testi invernali, pre-campionato. Si rivelò infatti subito complicata, nervosa, rigida, perfino con anomale e turbulenze che scuotevano troppo il casco dei piloti. Newy in particolare aveva puntato su un posteriore bassissimo, dove l'abituale triangolo superiore della sospensione era sostituito da una piastra in fibra di carbonio a profilo alare. Al Paul Riccard, in altri test, si scoprì una preoccupante crepa, alla quale si ovviò temporaneamente con rinforzi in alluminio. Lo stesso avantreno presentava bruschi scarti, sia in inserimento che uscita di curva. Ayrton ha cercato di fare cose che quella monoposto non era in grado di fare, ha sempre riconosciuto Newy. Il brasiliano infatti, seppur ancora a zero punti, aveva conquistato la Poli in tutti i Gran Premi fin lì disputati, poi Imola compresa. Ma l'atteso inizio della riscossa non ci fu mai. Grazie per l'attenzione, lasciami un like se il video è stato di tuo interesse e intanto puoi guardare subito quest'altro video di una morte ancora senza spiegazione certa. Ciao